Nella drammatica storia della Seconda Guerra Mondiale, con le sue in mani sofferenze, Cassino, la città e il suo territorio, queste popolazioni sono tragicamente entrate nell'elenco dei martiri d'Europa, accanto ad altri centri, come Coventry, come Dresda. Gli storici ci consegnano un numero così alto da essere terrificante di migliaia e migliaia di vittime, delle diverse armate, della popolazione civile, degli abitanti di questa città, di questo territorio, come conseguenza dei 129 giorni di combattimenti qui avvenuti. I cimiteri e quelli di guerra dedicati ai combattenti fanno qui corona e ammoniscono, una tragedia dei costi umani ripeto di dimensioni spaventose.